La guerra E come erano belle le fontane in Russia Scorrivano sempre E poi, dopo quattro o cinque giorni Scorrivano un'altra volta La la la... La 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 la la... La 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 la... Si scende? Si, si! Mamma e papà sono tanto da affarati! Si. Si scende? Si scende? Ed esparmio! Ed esparmio? Ed esparmio? Ah no? Si scende finalmente! No! Mi hai fatto aspetta tutto questo chiesto! Signora, c'è uno che chiede di lei Ha detto un vecchio amico Sa, io mi faccio fare di miei Ando, trametti L'oceano, infatti Non ti augustavano, vieni Vatti! Eccoci qua È arrivato il giorno È il giorno di vedere come si è alcazzato il tubista Hello Hello Buonasena Tommalo Voi dovete guarire a mare Come? Filomena palestra Prima palestra Briondo Letta Ora Pernente Filippo Maria Tronchetto No È tornato il morto Arrestatelo 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 Lalalalalalalalalalalalalalalala Lui mi vuoi bene, tanto, tanto bene, mi porta spasso tutti i venerdì.